C'è una ragazza, e si chiude la buttata, si deve caricare la brutta. C'è una ragazza, e si deve caricare la brutta. C'è una ragazza, e si deve caricare la brutta. C'è una ragazza, e si deve caricare la brutta. C'è una ragazza, e si deve caricare la brutta. C'è una ragazza, e si deve caricare la brutta. C'è una ragazza. C'è una ragazza. C'è una ragazza. C'è una ragazza, e si deve caricare la brutta.